La mia faccia da culo c'è sempre. Come state? Spero tutto bene e vi parlo da Pospelica. Dov'è Pospelica? Non lo so neanche io, credo che sia in Russia. No, sono in Russia, a qualche chilometro dal confine col Kazakistan. Ho sconfinato ieri e non ci crederete ma sono a meno di mille chilometri dal confine con la Mongolia. Quindi dopo quasi tre mesi e 22.000 chilometri di viaggio sto per arrivare. Nel frattempo mi grattugio un po' le palle così non si sa mai. Ma perché questo video quest'oggi? Da questa bellissima costruzione, una gastinizia, ovvero una specie di hotel bed and breakfast, no perché non c'è breakfast, dove mi sono riposato un attimo, avevo bisogno di resettare un po' le idee, sistemare alcuni file, alcuni video, insomma c'è da sistemare qualcosina. Ma perché questo video? Se ti dico tu hai tante cose in testa e poi non ne dici neanche una. È un video che volevo fare poco prima della partenza, comunque durante i primi giorni, ma non ho avuto né tempo né, essere sincero, voglia. E vi parlerò delle modifiche che ho fatto alla Capona prima di partire. Sapevo, insomma, l'avevo già utilizzata per otto mesi, sapevo pro e contro e prima di partire avevo fatto qualche accorgimento. E lo andiamo a vedere insieme. Intanto guardatela in tutto il suo splendore. No, è lurida come non mai. Allora, non saprei neanche da dove iniziare. Le grafiche, quelle là da Abrabit, le avete viste, vi sono piaciute e hanno resistito al caldo di 50 gradi quasi dall'Iran e quindi se cercate le grafiche, approvate. Ne hanno veramente di mille, milla colori e tipi. Soprattutto per KTM, un po' tutti i modelli, ma anche qualche altro marchio. Prima, lato sicurezza. Ho cambiato le barre paramotore. Per chi ha il 1290-2021 sa che sono una gran pecca di questa moto, perché sono attaccate solo a un punto, quelle originali, solo un punto al telaio qui. Quindi quando cadrete, e spero per voi non cadete mai, ma a me succede spesso, le barre praticamente si spostano da un lato all'altro e vanno a sbattere le plastiche del serbatoio, rovinandole. Quindi ho preso queste qua dell'Outback Motor Tech. Credo che sia uno dei primi al mondo, perché queste qua che ho montato sono un po' un prototipo. Però le ho già testate per bene. Fortunatamente non ho avuto grossi incidenti, ma sapete, le classiche cadute quasi da fermo, a velocità da fuoristrada, molto easy. Ciao amore mio! Ciao, saluta, saluta! Lei è la proprietaria della gastivizia. Di queste barre, ve le faccio vedere, c'è l'attacco qui al telaio, ma c'è anche l'attacco qui al motore. Questa è la campanellina che mi ha regalato compare Emilio. Vedete? già qualche graffio è qualcosa. E' una cosa interessante, oltre a essere comunque più protettive e più sicure, sono comode perché nei lunghi tratti autostradali facevo come quando avevo il GS, ovvero mettevo le gambe qua sopra e viaggio più comodo, se mi devo sgranchire un attimo le ginocchia. Questo è come sono davanti. E altra cosa a non trascurare è il paracoppa. Anche quello originale era spesso, non so quanti, due millimetri, un millimetro, no, non so. Sta di fatto che quando l'ho cambiato praticamente sembrava la luna. Tutti i crateri, tutte le buche, tutte le cose che avevo prese, tutte le pietre avevo prese, l'avevano ammaccato completamente. E' sempre l'Outback Motortek. Questo è il paracoppa. Spesso adesso non ricordo se sei o otto millimetri, ma vi posso assicurare che ho preso tante di quelle botte, ma più che altro, sapete, le pietre grosse che schizzano quando passi sopra quella ruota, sentivo proprio che pom 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 pom, ma c'è soltanto graffiato, non c'è neanche una ammaccatura. Una volta che siamo qui, vi faccio vedere l'altra modifica che ho fatto, comunque, cosa ho cambiato. Le pedane. Perché ho cambiato le pedane? Ho messo questa è la Sam Racing Part, perché quelle originali non erano malvagie, più che altro per il grip, insomma, erano ben dentate se si toglieva la plastica, la gomma sopra. Il discorso è che erano molto, ma molto piccole, quindi dipendeva anche dal tipo di stivale che avevo. Quando stavo in piedi, in fuoristrada, dopo un po' mi faceva male la pianta del piede, quindi con queste qua hanno un ottimo grip e sono anche sia più lunghe che più larghe dell'originale, ma anche queste consigliate. Hanno preso pure questo un paio di botte, ma hanno retto. Boh, già mi sono dimenticato cosa... Ah! Ragazzi, e credo che comunque questo sia stato l'acquisto migliore per questo viaggio, ovvero i cerchi. i possessori di KTM 1090 sull'Adventure R, sì, R soprattutto, 2021, sanno di cosa sto parlando, ovvero i cerchi originali della marca Actron, adesso non ricordo il nome, come potrei definirli? Latta? Boh, no, non lo so, non mi va mai di parlare male delle cose. Sta di fatto che quando ho iniziato a utilizzare la moto per il fuoristrada un pochino più spinto, tornavo a casa e avevo i cerchi pieni di bozzi. Cioè, giustamente perdeva anche un po' d'aria. Io mi sono detto, Federico, non puoi partire, non puoi pensare ad arrivare in Mongolia con questi cerchi. Cioè, li potevo raddrizzare, ma sapevo che dal primo buco, dalla prima pietra, si sarebbero bozzati nuovamente. Quindi, ho fatto questo grande investimento e ho preso i cerchi Excel da Bartubles. Adesso la cifra, adesso non ricordo se era sui 1600, 1700, 1200. Adesso non mi ricordo completamente. E oltretutto c'era una bella storia dietro questi cerchi, perché fino a quattro giorni prima di partire non c'erano. O meglio, c'era la lama, c'erano i raggi, ma mancavano i mozzi. Fortunatamente sono arrivati, Stefani Bartubles è stato gentilissimo, che me l'ha montati lì a Pavia, nel suo centro, al volo. E a questo migliore di questo non potevo fare. Ragazzi, se non vi posso... Cioè, potete soltanto immaginare il tipo di strada lì che ci sono in Kazakistan, in Tajikistan, o anche quando mi vado a perdere tra qualche passo di montagna e la Georgia. La moto pesa. Poi ho imparato a non sgonfiare neanche più di tanto le gomme, perché la moto è pesante, la spalla della gomma comunque abbastanza ridotta, quindi è un attimo prendere una pietra, un dosso, un qualcosa e bozzare i cerchi. Ci stavo riuscendo in Tajikistan, ma fortunatamente non è successo niente. Ogni tanto sentivo qualche bella stank, questo proprio forte, sui cerchi, ma soprattutto l'anteriore ha resistito. Potrei stare qui a parlarvi ore di come sono fatti i mozzi, cuscinetti interni che sono vuoti, insomma molto molto meglio rispetto all'originale. È un investimento oneroso, lo ammetto, però se sapete, siete coscienti delle strade che andrete a fare, ve li consiglio. Uh, cosa mi stavo dimenticando? Per quanto riguarda i cerchi, sì, sì, sono tubeless, ovvero hanno bisogno di una camera d'aria. Avevo paura che non entrasse il sensore dei pneumatici, questo è il 2021, però fortunatamente nel delame XL si possono montare. Adesso potremmo iniziare una discussione infinita per quanto riguarda, già conosco tutti il paese, per quanto riguarda mettere il camera, meglio partire con camera d'aria o tubeless, pro e contro. Uno se buchi col kit ripari subito, però se spacchi la gomma, bozzi il cerchio, si è rovinato. Con l'altro anche se prendi una piccola foratura ti tocca smontare gomma e cerchio. Fate voi. Altra cosa per quanto riguarda la protezione. Ho montato i paramanni della Bark Buster. Probabilmente i puristi dell'enduro non amano i paramanni chiusi, ma se pensate a tutti i chilometri che ho fatto, a tutte le cadute, era l'unica soluzione per non portarmi 6 miliardi di leve freno e frizione. E mi trovo bene, mi trovo veramente bene, anche perché con questa aletta posso alzare e abbassare, quindi mi protegge più o meno dall'aria. Altra cosa, starei di storia, è già otto minuti, non ho parlato di niente. Bam! L'altra carica di dose. Ma che cazzo dico? C'erano dei bambini che mi guardavano e mi sono emozionato, scusate. Sapete che il sound della Capona non mi ha mai emozionato più di tanto. Trasciando il rumore del motorino d'avviamento, era proprio lo scarico quello che non sapeva di nulla, oltre a essere grosso e pesante. Quindi anche lì, tre giorni prima di partire, mi sono fatto arrivare uno scarico Harrow. Pareri. Mi piace, mi piace, perché è uno scarico che pesa circa 3,5 kg in meno, forse anche di più rispetto all'originale. E poi onestamente il sound cambia, non eccessivamente, ma a me sta bene così, perché lo scarico quello super aggressive, insomma, se fai comunque tanti chilometri, soprattutto in autostrada, può dare fastidio. Invece questo qua, diciamo che è abbastanza equilibrato. E comunque, oltre a risparmiare peso, avrete anche un sound da Capona, diciamo. Quindi, parlando di scarico, un'altra cosa che ho cambiato prima di partire è stato il filtro dell'aria. Essere sincero, avevo chiesto a Guglielmo anche il filtro benzina, ma praticamente mi ha risposto con una mail insultandomi, cioè no, insultandomi nel senso buono, nel senso che non credeva nel mio viaggio, perché secondo lui la pompa della Capona era sottodimensionata rispetto alla potenza, ma mi ha fatto una mappardella e gli ho detto, grazie Guglielmo, è stato un piacere, ti prendo soltanto il filtro dell'aria. Quindi il filtro dell'aria della Guglatech. Non so se è stato il filtro, se è stato lo scarico o se sono stati entrambi, ma mi sono reso conto che aveva un altro tipo di erogazione, era molto più fluida e anche un po' più cattiva. Adesso non ricordo il modello esatto del filtro, non so, è praticamente un filtro lavabile, quindi se dovete fare il tagliando o avete fatto tanto fuoristrada e è arrivata tanta polvere, basta che smontate tutta la figata della Capona e che per smontare il filtro dell'aria basta togliere la cassetta, questa dove c'è la porta USB, sfilare ed esce il filtro. Quando si dice una moto è stata fatta per il fuoristrada, è vero. Visto anche i precedenti furti, ho deciso di equipaggiare questa Capona con un satellitare, ho quella è l'Atlantis, si chiama Atlantis Max, si collega alla batteria e devo dire che funziona bene. Ultimamente hanno anche migliorato l'applicazione e da lì potremmo oltre che settare i vari parametri di sensibilità di tutto, tramite l'applicazione possiamo sapere in tempo reale dove si trova la moto e cosa non dà meno, ho fatto installare l'applicazione a mia madre, quindi con il mio username e password lei può vedere esattamente dove sono. L'unica nota negativa è che se cado le arriva la notifica del sensore, questa non è una gran cosa, però no, devo dire che sta funzionando. Ok, in tutto questo Federico, con che borse sei partito? Anche le borse le ho cambiate una settimana prima di partire, sono partito con le Mosco, le Backcountry, le vediamo qui cariche a palloncino, sono queste. Allora, parere, ho sempre parlato bene delle Bumot, adesso tralasciamo collaborazione o minchiate varie, perché sono oneste come borse, costano il giusto e offrono tanto, sono fatte discretamente bene e io le avevo prese fondamentalmente, sapete perché? Perché erano le uniche borse che avevano lo scasso sui telai del lato scarico, cose che queste non hanno. Infatti ho tenuto i stessi telai della Bumot e Mosco vende un adattatore. Adesso vi faccio vedere. Ecco. Ciao, ciao frate, tutto bene? Spasiva! Allora, praticamente, ecco, queste sono i telai della Bumot. Questo qui è l'adattatore. Cosa vuol dire? Odestamente fa veramente cagare la moto con la borsa a 20 cm dalla sella, è una cosa oscena. Qui non si vede bene, ma perché c'è il borsone sopra e qui ho messo anche la sedia da campeggio, giusto per nascondere tutto questo spazio. Però, ragazzi, è l'unica soluzione, proprio perché la cappona ha lo scarico molto esterno e non si poteva fare di meglio. Per quanto riguarda le borse, allora, queste qua sono il modello da 35 litri. Sono impermeabili, hanno la sacca interna impermeabile e sono proprio studiate bene. Cioè, sono proprio fatte da gente che va in moto. Esempio stupido. Si cade in moto, no? Quindi questa, che non è altro che una protezione, perché se cadi e buchi questo, buchi anche, insomma, l'interno e puoi buttare la borsa. Se cadi e rovini questo, si può smontare. E comunque hai la borsa sempre protetta. Ma questo ti fa anche da sacca. In questo caso, da questa parte, per esempio, io ho messo accetta e seghetto. Com'è che mi hanno ancora arrestato in tutte le frontiere che ho attraversato tra, per esempio, l'Uzbekistan e mi dicevo, hai coltelli? Io, no, un coltellino svizzo, avevo l'ascia che poteva tranciare la foresta amazzonica. E l'altra cosa che mi è piaciuta sono queste pocket, ovvero queste quattro sacche da 5 litri, dove ci puoi mettere di tutto. Io qua ho messo il cavalletto, l'acqua, le due bottiglie MSR e la benzina. Questa sacca MSR che utilizzo per lavarmi, è una figata pazzesca, perché tu apri qui ed esce l'acqua, comodissima. E qui è un'altra sacca dove credo abbia messo le scarpe. Questo è il borsone da 40 litri della Moscow, il backcountry. È capiente, sì, ma non è proprio il massimo della comodità, lo ammetto. Per due motivi. Uno non ha l'apertura dall'alto e dici, ha le due parture laterali. Ci sta. Devi essere molto bravo a riempirlo, perché se per esempio hai le cose più utili all'esterno, basta aprire questa sacca e prendi per esempio l'antipioggia. Il problema qual è? Che per legarlo alla moto ci sono queste fascette. Quindi comunque, a prescindere da tutto, quando devi prendere qualcosa da dentro, devi almeno allentare queste fascette. È una rottura di palle. E allora vi dico al volo anche cosa ho messo all'interno delle borse, perché non mi piace fare il video quello là, come ho caricato la moto. Vi dico soltanto che qui all'interno ho messo tutte le robe da campeggio, quindi tenda, materassino, saccappelo, cuscino e tutte queste cagate. Mentre qui nella borsa backcountry ho messo la paleria, quindi ho messo separati. In questa borsa ho alcune robe tecnologiche, tipo caricabatterie, antipioggia, medicinali, tipo una farmacia che mi ha dato mio padre, e un obiettivo della Reflex e qualcos'altro. E invece qui in quest'altra borsa 35 litri vi faccio vedere, la devo sistemare ragazzi, scusatemi, tutti i vestiti che tecnicamente all'inizio erano dentro una sacca, adesso la sacca è scoppiata e quindi sono un po' in giro così. Mosco mi ha dato anche la sua borsa serbatoio, che, adesso non ricordo esattamente i litri, se erano 9-10, adesso non ricordo, ed era anche fatta molto bene. Il problema qual'era? Che per me era piccola, perché io all'interno della borsa serbatoio metto sempre il drone, il telecomando e la Reflex, e in quella MoscoMoto non ci stava. Quindi ho ottenuto la mia buon cara Enduristan 4H, che ormai ce l'ho da tre anni, è la migliore. Mi è piaciuta di più rispetto a quella della Mosco, perché quella della Mosco aveva questi lacci, queste cinghie, non le aveva elasticizzate, ed era più scomodo da montare, visto che ogni volta, e smontare, visto che ogni volta, per fare benzina, devo togliere la borsa serbatoio, ed è molto più comoda. Questi sono gli specchietti, quelli della Double Take Mirror. L'ho cambiati un po' per lato estetico, un po' anche per funzionalità, perché quelli originali della KTM praticamente sono attaccati qui, e se cadi e si spacca questo, oltre a non poter più montare lo specchietto, andava giù pure i paramani. Altra cosa, le gomme. Allora, io sono partito con delle Mitas E07 Plus, con le quali ho fatto 10.000 km. Allora, secondo me, le Mitas queste E07 sono, non mi piace dire la gomma definitiva, ma il miglior compromesso per questa tipologia di viaggio, perché comunque vanno bene su strada, ti permettono di fare delle robe interessanti in fuoristrada, ovviamente tralasciando il fango, però dal loro canto hanno una durata che supera sicuramente i 10.000 km, nonostante la mole della moto e la potenza. Io le ho cambiate a Tbilisi dopo 11.000 km e secondo me ci potevo fare altri 2-3.000 km. A Tbilisi ho montato le Mitas E07 Enduro, che, a essere sincero, mi sono piaciute più delle Plus. Adesso non so perché, ma soprattutto in fuoristrada, al posteriore avevo un grip della Madonna, nonostante il disegno fosse con la linea centrale continua. E dicevo, ma queste qua non tengono. Invece, sul passo a Bano in Georgia mi sono divertito come un pazzo. Anche con quelle là ho fatto circa 12.000 km e ne avevo altri 2-3.000 km. Solo che avevo paura di non riuscire ad arrivare in Mongolia. Quindi cosa ho fatto? Ad Almati le ho cambiate. Ma le uniche gomme che avevano ad Almati erano delle Mitas E09. E sono delle gomme strettamente per un utilizzo fuoristradistico. Le andiamo a vedere insieme. Sono le gomme più tastellate che abbia mai montato sulla cappona. Allora, è ovvio che vi dico che in fuoristrada vanno benissimo, anche sulla ghiaia hanno tanto grip. Il problema è la durata, che secondo me col posteriore non ci faccio più di 5.000 km. E giustamente la numerosità su asfalto non è delle migliori. Sul bagnato non le ho provate, ma non le voglio neanche provare. Vi parlo anche di un'altra cosa che solitamente è fonte di discussioni o pareri o altre robe sui social. I miei supporti cellulare. Ormai da un paio di anni utilizzo sempre quelli della Quad Lock. E vi faccio vedere come ho sistemato i due cellulari che utilizzo sulla moto. Allora, questo è il supporto Quad Lock, questo è quello da specchietto, questo è un adattatore mobile in modo tale da poter regolare l'infinazione del cellulare. Mentre questo è il caricatore wireless, montato non più sul traversino originale KTM, ma su un traversino che l'ho trovato su Amazon a circa 20€. Perché l'ho cambiato? Perché quello originale ballava troppo, sì, ballava, insomma, vibrava troppo, ballava siciliano. Vibrava troppo e oltretutto non riuscivo a montare il supporto Quad Lock, quello a piastrina con le quattro viti e il caricatore wireless. Parentesi. Ah, ovviamente non ci dimentichiamo che in entrambi ho messo lo smorso a vibrazioni, perché senza smorso a vibrazioni rompete sicuramente lo stabilizzatore della fotocamera dell'iPhone, soprattutto. Cosa c'è da dire? Ah, per quanto riguarda il Quad Lock, avevo persino montato un accessorio nuovo che praticamente dalla batteria porta la corrente a 12V al caricatore wireless. Non so perché l'ho montato il giorno prima di partire, ma mi sono reso conto che quando spegnevo la moto il caricatore rimaneva acceso, quindi ho deciso di staccarlo ad evitare che mi si scaricasse la batteria. Parentesi. Poi al ritorno in Italia me lo studio un po' meglio. Già la sella ve l'avevo fatto vedere. Ho montato la sella rally. Come mi trovo? Il motivo per il quale l'ho cambiata era esclusivamente per il fatto che quella originale era per me eccessivamente bassa. Non tanto durante la marcia, no, non tanto quando ero fermo e comunque toccavo bene, ma durante la marcia mi teneva le ginocchia molto piegate e mi facevano un malecane. Con questa qua si è alzata di 2-3 centimetri e onestamente è comoda, forse anche un pochino più comoda rispetto a quella originale. Di contro però ha che è più sottile. Praticamente in Iran avevo le pustole, no, avevo le pustole al culo, praticamente avevo le pieghe al culo. Salutiamo. Ciao, ciao, ciao amore mio, come stai? Tutto bene? E cosa era successo? Sì, che col caldo, le mutande, le cose, mi stavo sfondando sia il culo che le cosce, perché è più stretta rispetto all'originale. Quindi se dovete fare un viaggio lungo e non fate fuoristrada, ovviamente, vi consiglio o l'originale o la power part, quella Comfort, non la rally. Questi sono gli attacchi, quelle le Insta360, ce ne sono mille, qui ho la Insta360 One RS, qui il bastone per la Insta360 One X2. Lato sospensioni. Ho imparato, o perlomeno ho capito un po' come si regano le sospensioni, soprattutto la forcella. Non l'avevo visto, ma qui, eccolo, vedete questo qua, praticamente sono tutti i settaggi della forcella, sia compressione che rilascio. All'inizio facevo solo danni, poi piano piano, passo dopo passo, ho capito dove dovevo gestire e adesso credo di aver trovato un giusto compromesso tra Comfort e guida in fuoristrada. Ragazzi, e per finire, vi dico che dopo 21.000 km, le uniche due cose che ho rotto sono stato uno statore in Iran, con 50 gradi e 12 dispositivi collegati, e l'altro giorno in Kyrgyzstan, giustamente mi si sono rotti i paraoli della forcella perché sono annegato in mezzo al fango. Sono rimasto una notte bloccato in una yurta e quindi il giorno dopo, quando mi sono svegliato, ho utilizzato la moto e iniziava a pisciare olio. Sì, fortemente sono riuscito a cambiarlo ad Almati. E basta. Spero che questo video, non so se ti sia stato utile, se ti è piaciuto, non lo so, fai te. E io, alla fine qua, in questo posto magabro, mi trovo bene, ma domani riparto. Se hai altre domande, se avete altre domande, fatene qui nei commenti, cercherò di rispondervi, non so se è dalla Mongolia, non so se è da casa. E vi voglio bene, veramente. Un saluto dal Marrettone, ci vediamo al prossimo video che non sarà, non so cosa sarà, se ci sarà. Vabbò, un abbraccio, ciao. Ciao. Ciao.